Un notevole flusso di aria calda sta investendo in queste ore l'Italia meridionale, dove le minime sono risultate in alcuni casi di ben 10 gradi superiori al normale. Nella giornata odierna però, pur sussistendo il respiro caldo africano, le temperature in quota sono destinate a scendere di qualche grado. Un peggioramento è atteso nella giornata di domenica. Sulla nostra regione avremo prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Qualche velatura caratterizzata da nubi alte e stratificate potrà interessare parte delle zone interne. Vi è inoltre la possibilità di qualche nube bassa al primo mattino sulle zone a diretto contatto con la costa ionica. I valori saranno in sensibile aumento nel materano. Un sensibile aumento si avrà anche nei valori minimi del potentino, con le massime però in calo. Potenza a 23 le minime, 30 le massime, Matera a 21 le minime, 32 le massime. I venti soffieranno da sud-ovest sul potentino, risultando di moderata intensità e da est, nord-est, sul materano, più deboli. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, saranno mossi. Previsioni per domani. Sulla nostra regione avremo ancora una ventilazione meridionale che manterrà i valori decisamente elevati, ma sicuramente più freschi rispetto alla giornata di ieri. Il tempo rimarrà buono ovunque, con un po' di nubi in aumento nella seconda parte della giornata sulle zone occidentali, segnale di un peggioramento previsto per domenica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS